Il sindaco di Ribera, Carmelo Paccio, lancia un appello alla solidarietà a fronte di tante famiglie sempre più in difficoltà. La Caritas Cittadina e la San Vincenzo stanno svolgendo, dice, un ruolo molto importante, ma c'è bisogno di aiuto e di donazioni per far fronte alle richieste in continuamento. Le donazioni possono essere effettuate alla parrocchia San Pietro Apostolo Caritas Cittadina o all'Associazione San Vincenzo dei Paoli, che hanno attivato specifici conti bancari. Sempre il sindaco di Ribera ha comunicato alle famiglie delle case popolari di Larcomartiri e di Via Fani che a causa dell'emergenza coronavirus e delle misure contenitive in vigore, questo mese il contributo per l'affitto non potrà essere liquidato in contanti da Unicredit. È necessario dunque che le famiglie interessate facciano pervenire le proprie coordinate bancarie al comune di Ribera affinché possano essere effettuati i bonifici. Diamo una mano alle famiglie in difficoltà. Ammontano ad oggi a 2.710 euro le donazioni ricevute nell'ambito della raccolta fondi, promossa dal comune di Sciacca, assieme ai pediatri, ai farmacisti e alla protezione civile. Hanno donato associazioni, enti e semplici cittadini, ognuno secondo le proprie disponibilità. La raccolta è stata lanciata una settimana fa per rispondere alla richiesta d'aiuto di famiglie che per problemi economici non possono acquistare prodotti per neonati e bambini come latte, impolvere, soluzione redartante, spray nasale, techipirine e disinfettanti. Sul sito del comune l'elenco delle donazioni. Ti ascolto, ti aiuto, parto un nuovo servizio del comune di Sciacca che si aggiunge ad altri che in queste settimane sono stati attivati a seguito dell'emergenza coronavirus. Si tratta di uno sportello di supporto psicologico e sociale istituito dagli assistenti sociali del PON Inclusione. Ti ascolto, ti aiuto e un servizio gratuito per mettersi in contatto con gli psicologi e gli assistenti sociali dello sportello basta chiamare il numero 337-153-4058 dal lunedì al sabato. Dal lunedì al venerdì lo sportello sarà attivo mattina e pomeriggio dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il sabato dalle ore 14 alle 18. Il servizio vuole offrire un sostegno psicologico e psicosociale ai cittadini in un momento difficile e particolarmente stressante e assicurato da professionisti impegnati da tempo nel supporto psicologico. È stato inoltre attivato un indirizzo mail sostegnocovid19comunedisciacca.gmail.com per tutti coloro che volessero anche solo raccontare come stanno vivendo questo momento di emergenza. Sull'onda del riscontro positivo ottenuto dall'attivazione del servizio di assistenza psicologica telefonica Covid-19 destinato a pazienti affetti da demenza senile e le loro famiglie il Dipartimento di Salute Mentale dell'Aspedia Grigento ha deciso di intensificare la platea dei fruitori all'intera popolazione della provincia. Dopo l'esperienza pilota avviata nei giorni scorsi presso l'unità operativa complessa Centro Alzheimer Tutti i dirigenti psicologi operanti nelle varie strutture garantiscono ora il servizio. A Sciacca si può contattare il Centro di Salute Mentale al numero 0925 962 650. Sono almeno una cinquantina menfi le famiglie indigenti le quali in attesa del contributo della protezione civile per la fornitura di derrate alimentari hanno già ricevuto donazioni da parte di privati con il coordinamento del Sindaco Marilena Mauceri in persona che ha attinto proprio dall'elenco di persone più bisognose gestito dall'Ufficio Servizi Sociali. Confidiamo, ha dichiarato la Mauceri, che il sostegno della protezione civile si accelere considerato che la necessità di aiutare per come è possibile questi nostri concittadini è per noi una priorità.